Un primo tassello significativo per ridurre le disuguaglianze tra nord e sud lo definisce così il governatore Vincenzo De Luca l'accordo siglato all'interno della conferenza Stato-Regioni per la ripartizione dei fondi dedicati alla sanità. Dopo anni di battaglia politica portata avanti dalla regione Campania, quasi sempre in solitudine, oggi abbiamo raggiunto un accordo politico in base al quale a decorrere dal 2023 accanto alla pesatura della popolazione per l'età inagrafica si terrà conto anche dei criteri già previsti dalla legge ma finora puntualmente disattesi del tasso di mortalità e della deprivazione socio-economica, annuncia in una nota il presidente della Campania che continua e è stato inoltre approvato il principio generale secondo il quale le differenze di finanziamento pro capite tra le varie regioni devono tendere a ridursi entro margini tollerabili di variabilità. Siamo soddisfatti del grande passo in avanti compiuto, conclude, e siamo pronti a continuare la battaglia nei prossimi anni affinché ai cittadini campani non venga sottratto un solo euro di finanziamento per garantire loro il diritto alla salute. I manager della sanità irpina esultano alla notizia dei maggiori fondi per la Campania e Mezzogiorno ottenuti alla conferenza delle regioni. Sicuramente un grande traguardo ottenuto tramite il presidente e il commento del direttore generale dell'AS di Avellino Mario Ferrante, un risultato legato alla condizione della popolazione campana che oltre ad avere disagi di tipo sociale ha maggiori percentuali di mortalità a cui deve corrispondere una maggior necessità di assistenza e solo ora è stata considerata. Questi fondi serviranno per potenziare oltre ai presidi ospedalieri anche il territorio per fornire una risposta adeguata al cittadino, conclude il numero uno di via degli imbimbo. Penso che sia una battaglia che finalmente vede una risoluzione, dice invece il manager del Moscati Renato Pizzuti. Sono anni che cerchiamo di portare avanti il discorso del riequilibrio tra nord e sud valorizzando parametri che sono nella legge ma mai applicati. Ora finalmente è stato fatto l'applicazione di questi criteri in qualche modo equilibrano quello dell'anzianità della popolazione che ci vedeva penalizzata come regione campania, spiega il direttore generale di Contrada Moretta. Una battaglia politica durissima a cui ho partecipato anche io perché il fronte delle regioni del nord, indipendentemente dal colore politico, era sempre stato molto compatto. La caparbietà, la decisione e la risolutezza del governatore De Luca hanno permesso di portare il risultato a casa. Vedremo, conclude, di riequilibrare la situazione tra nord e sud. Grazie a tutti.